Nessuno può spiegare perché finisce l'amore. Non c'è un momento preciso in cui si può identificare la caduta, non c'è un percorso canonico di salvezza o di recupero del rapporto strappato. C'è solo il presente inesorabile. Il dolore è troppo grande per poter razionalizzare l'accaduto. Solo il tempo, o l'allontanamento dai luoghi in cui la vicenda si è rotta, può lenire lo strazio. Lei si domanda, sono io a non aver capito nulla, a non aver saputo intuire le debolezze e agire per rafforzare il rapporto, il dialogo, la tenerezza, i ricordi del suo profumo, del suo modo di muoversi, dell'inadeguatezza dei suoi comportamenti, senza rimedio quell'arrivare sempre in ritardo, servono ben poco per cercare un chiarimento, surreale, impossibile.